Ma stia tranquillo, come presidente del pianeta Spaceball, sul mio onore posso assicurare sia lei che i suoi telespettatori che non c'è nessunissima carenza di aria. Sì, certo, sono arrivate anche a me queste chiacchiere. Stia tranquillo, la ringrazio per la telefonata e per non avermela debitata i miei omaggi. Sì, coglione. Presidente Scrosti. Sì. 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 Sì.